Per stampante 3D si intende una macchina in grado di creare degli oggetti in plastica a partire da file digitali. Le stampanti srotolano da una bobina un filamento plastico, deponendo uno sull'altro strati di plastica fusa, seguendo un percorso tracciato da un progetto digitale. La stampante 3D può realizzare qualsiasi oggetto, da una semplice scatola ad una casa intera. Oggi gli scienziati usano la stampante 3D per realizzare anche parti del corpo umano. Di che cosa parliamo? Della mano bionica. I bambini non faranno più sessioni di fisioterapia ma dovranno allenarsi per diventare supereroi. Lo dice un'azienda di stampanti 3D che ha messo in commercio arti bionici con le sembianze di quelli dei personaggi dei film per ragazzi. Lo sa bene Kenny che ha visto recapitare il suo braccio bionico addirittura da Iron Man, l'attore Robert Downey Jr. L'idea di far indossare ai più piccoli protesi dal look dei loro beniamini è venuta ai genitori, insegnanti, ingegneri, informatici, tutti accomunati dalla voglia di rendere la vita di questi bambini più leggera, perché indossare una mano di un supereroe fa sentire speciali, non diversi. Tutto ciò non sarebbe possibile senza la stampante 3D, capace di realizzare qualsiasi oggetto su misura, come i dispositivi disegnati per sostituire parte del corpo umano. Gli scienziati alcune volte lavorano con i designer perché magari vogliono aiutare, in questo caso abbiamo visto i bambini. Uno dei aspetti fondamentali per chi costruisce protesi è l'accettabilità da parte dell'utilizzatore delle protesi, e per i bambini in particolare la protesi deve essere piacevole, deve essere leggera, deve essere facilmente utilizzabile. Siamo qui per parlare di una protesi molto sofisticata che è la mano bionica, quella italiana compie 10 anni, a che punto siamo arrivati? Nel tempo abbiamo una bella tradizione in Italia perché appunto i 10 anni ci ha visto protagonisti su queste tecnologie che consentono innanzitutto di recuperare la comunicazione col sistema nervoso pericerico. L'obiettivo strategico delle protesi bioniche è non soltanto arrivare a controllare la mano, ma restituire all'utilizzatore della protesi delle sensazioni relative al contatto con l'oggetto. Adesso vediamo i particolari della mano bionica in questo servizio. Medici, ingegneri, informatici e scienziati di tutto il mondo lavorano da anni su progetti mirati alla realizzazione di una mano bionica. Parliamo di una protesi collegata con il corpo umano con funzioni simili ad un arto. Gli scienziati italiani sono tra i primi al mondo. Due progetti distinti di mano bionica vedono la collaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con la Fondazione Policlinico Gemelli e quella del Centro Protesi ENAIL con l'Università Campus Biomedico di Roma. Come funziona? Trasferisce le sensazioni tattili della protesi in stimoli elettrici che il cervello traduce in vere e proprie sensazioni naturali. Siamo riusciti a ridare a due pazienti, a Merino e a Loretana, la capacità di avere informazioni tattili ma anche di posizione delle dita. Quando noi prendiamo un oggetto è importante, è molto importante sapere se stiamo pigiando di più o di meno, quindi la parte tattile, ma è anche importante capire dove la mano è posizionata per poter cambiare il tipo di presa e ottimizzare la manipolazione. Una protesi molto sofisticata è ANNES, sviluppata dall'INAIL e dall'IIT di Genova. Sfrutta gli impulsi elettrici della contrazione dei muscoli di ciò che rimane dell'arto, percepiti da sensori, elabora in movimenti grazie a un sistema di intelligenza artificiale. Dunque il cervello si è abito ad usare un corpo esterno, possiamo parlare di Umano 2.0? Adesso piace tanto sicuramente, parliamo di Industria 4.0, Ospedale 4.0. Volendo sì, noi parliamo sicuramente in genere di sistemi ibridi, in cui c'è una parte naturale e una parte artificiale, l'obiettivo verso il quale ci muoviamo è integrare sempre di più la parte artificiale e nella parte umana per rendere il tutto sicuramente integrato e funzionante con un sistema naturale appieno.